Ne abbiamo sentite tante su Marilyn Manson, ma è vederlo parte offeso in una vicenda che ci sorprende. La diavolica Roadstar è stata presa a pugni in un ristorante della catena Dennis, secondo quanto riporta TMZ non ci sarebbe valida motivazione, dato che tutto si sarebbe verificato all'improvviso ad opera di uno sconosciuto aggressore. E' successo all'Etridge, in Canada. A scatenare l'ira dell'aggressore sarebbero state delle parole poco gentili ad opera della sua ragazza, in fila per strappare un autografo ed una foto all'autore di Ted Opie Show. Manson l'avrebbe chiamata puttana, ma stando alla versione dei camerieri, il cantante non avrebbe fatto nulla per scatenare l'ira dell'uomo che sarebbe partito con un montante senza alcun motivo. Marilyn Manson era carino con tutti, era gentile e stava accontentando tutti i clienti che volevano una foto o un autografo. Poi è arrivato questo tizio, gli stava parlando mentre lo ha colpito in faccia senza che lui lo provocasse o facesse chissà cosa. Dopo alcuni attimi di panico, la sicurezza del locale è intervenuta per sedare subito il principio di rissa. Marilyn Manson non aveva guardie del corpo ma era in compagnia di alcuni amici. Stando agli ultimi aggiornamenti, l'artista non avrebbe nessuna intenzione di sporgere denuncia nonostante siano stati immediatamente alertati i poliziotti della zona. È solo l'ultima delle numerose controversie a cui il frontman della band che porta il suo nome ha dovuto far fronte negli ultimi venti anni. Nel 1999 nei giorni successivi alla strage di Columbine, la band fu costretta ad annullare alcuni concerti perché ritenuta responsabile del condizionamento emotivo degli studenti autori del massacro. Si chiererà anni dopo che Rick Harris e Dylan Glebold non ascoltavano i Marilyn Manson, l'artista scriverà sull'accaduto una canzone, Tenobodies. Chi se ne frega.